Dal primo gennaio 2007 i dipendenti di imprese private possono scegliere la modalità di gestione del proprio TFR. Questa comporta di dover prendere una decisione se lasciare il TFR in azienda oppure procedere con una gestione privata. Vediamo cosa prevede la legge in materia. Sostanzialmente la legge suddivide i dipendenti in due categorie. Quelle che lavorano in piccole imprese e che hanno meno di 50 dipendenti e quelle che lavorano in imprese con più di 50 dipendenti. Prima di continuare ti suggerisco di iscriverti al canale per essere avvisato quando pubblico i nuovi video e di iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link giù in descrizione per ricevere i video gratuiti sugli investimenti. Bene, vediamo adesso i vari casi. Il TFR nelle aziende con meno di 50 dipendenti. In questo caso lo Stato ha dato 6 mesi al dipendente per effettuare una scelta tra silenzio assenso, in questo caso il TFR viene automaticamente dato in gestione all'Inps e viene tolto dalla gestione aziendale. Per chi invece è stato assunto dopo il primo gennaio 2007, la scelta deve essere effettuata comunque entro i primi 6 mesi di impiego. Attenzione! Con la regola del silenzio assenso si intende che, se non fai nessuna scelta, il TFR lo gestisce in automatico l'Inps, quindi non rimane in azienda come molti pensano erroneamente. C'è lo Stato reputa che chi sta zitto sta scegliendo di non scegliere. Non è perché non fai niente o non dici niente allora tutto rimane com'è. Il secondo caso è lasciare il TFR in azienda esplicitamente. In pratica si sottoscrive un documento in cui lasci deliberatamente il tuo TFR all'azienda e, in questo caso, il calcolo del rendimento è quello standard, se vuoi approfondire come puoi visionare il video su come si calcola il TFR. E' bene sapere che, se decidi di lasciare il tuo TFR in azienda, puoi in qualunque momento decidere di spostarlo in una gestione privata. Viceversa, se scegli la gestione privata, non puoi più tornare indietro. Al massimo potrai spostare il TFR da un gestore a un altro, ma esso non tornerà più in mano all'azienda. Con questo sistema lo Stato si è assicurato il cosiddetto effetto imbuto che canalizza nel tempo tutta una gestione dei TFR verso i privati. Questo perché sa già che in futuro le pensioni saranno molto più basse di quelle attuali e cerca di salvaguardare il reddito dei futuri pensionati senza dare troppo scandalo. Già da questo si puo' capire come poco rossia e la previsione del futuro economico degli italiani. Poi c'e' la gestione privata del TFR. Qui il discorso si fa un po' più articolato. Infatti esistono diverse possibilita'. Lasciare il TFR all'Inps, in questo caso va nel fondo dell'Inps, il quale gestisce tutte le liquidazioni in un grande calderone comune. Ci sono vantaggi diversi e svantaggi in questo tipo di scelta. I vantaggi derivano soprattutto da situazioni che possono costringere a chiedere un anticipo e da una minore tassazione. Gli svantaggi derivano dal fatto che i rendimenti sono più bassi rispetto ad altri tipi di gestione private. Il fondo di categoria è aperto. In ogni categoria di dipendenti ha più fondi di categoria. ad esempio i metalmeccanici hanno il fondo cometa, i commerciali hanno il fondo fonte, ecc. Anche in questo caso ci sono vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono quelli visti per il TFR gestito dell'Inps. Gli svantaggi sono che essendo un paniere dove confiscono tutti i lavoratori a cui possono mancare anche solo pochi anni alla pensione, ovviamente il fondo tende ad essere con una gestione molto cauta e quindi ha bassi tassi di interesse. Un'altra cosa da aggiungere è che se si procede con il cosiddetto silenzio assenso visto prima e l'azienda ha già scelto di non voler gestire autonomamente le liquidazioni, allora il tuo trattamento di fine rapporto invece di andare al fondo dell'Inps andrà in un fondo di categoria, se ce n'è più di uno andrà in quello con più iscritti. I fondi privati chiusi sono fondi gestiti da banchi o società di assicurazione che prevedono un accontannamento di quote in un fondo comune di investimento. Questo fondo può essere a gestione più o meno personalizzabile. Ci sono fondi totalmente obbligazionari, fondi totalmente azionari, fondi che investono anche in materie prime, titoli di paesi emergenti, ecc. Si può anche scegliere spesso la composizione della propria gestione, dicendo in che percentuale si vuole investire in azioni, in che percentuale in obbligazioni e così via. Questo perché spesso utilizzano il meccanismo dei cosiddetti fondi di fondi. Anche in questo caso ci sono la pro e il contro. Fra i lati positivi c'è sicuramente il fatto che il fondo è praticamente nominativo e quindi i soldi non sono inseriti dentro un grosso calderone comune. Ciò permette di puntare su un profilo di investimento studiati per le tue esigenze e si traduce, se è stato pianificato bene il tutto, in rendimenti superiori alle altre soluzioni. Nei lati negativi c'è da dire che siccome sono costituiti da fondi e di fondi, essi tendono ad avere costi di gestione più alti, in genere in linea con il massimo di legge che è il 3% anno sull'accantonamento effettivamente versato. 2. TFR nelle aziende con più di 50 dipendenti. In aziende con più di 50 dipendenti non è più possibile lasciare TFR in azienda, neppure facendo un'esplicita richiesta. Esso verrà diretto in un fondo aperto di categoria con le medesime opzioni che ho scritto riguardo le aziende con meno di 50 dipendenti. Ovviamente rimane sempre la scelta di un fondo privato chiuso per la gestione della propria liquidazione. 3. Dal punto di vista aziendale, l'ammanco dei soldi destinato al pagamento immediato della liquidazione viene compensato da un apposito taglio del cuneo fiscale e della possibilità di accedere a delle fiduzioni bancariche garantite dallo Stato per un ammontare uguale ai soldi che l'azienda ha sborsato in TFR verso l'esterno. Ovviamente anche le aziende più piccole possono accedere ai medesimi benefici se decidono di far gestire il trattamento di fine rapporto esternamente. Tra l'altro, dal punto di vista aziendale, liberasse il TFR una mossa molto vantaggiosa. Infatti, siccome dall'inizio del terzo millennio l'inflazione è sempre stata molto bassa, il tasso di interesse che l'azienda deve corrispondere al TFR dei propri dipendenti diventa un vero e salasso. Da quanto esiste l'euro, l'inflazione media in Italia è stata l'1,5%. Ciò significa che il tasso di interesse sulle buone uscite è stato mediamente del 2,7%, cioè quasi il doppio dell'inflazione. Ciò ha causato un debito crescente per le aziende. Un discorso diverso avveniva negli anni 70-80, quando a fronte di inflazione a due cifre, ad esempio 16% anno di inflazione, il TFR maturava del 13,5%. Un'azienda gestita in modo accorto sicuramente tenderà a privilegiare l'opzione che porta era inferiore in un'azienda che era inferiore all'inflazione, come puoi vedere dalle tabelle storiche dei coefficienti di realizzazione del TFR, che magari ti metto in un link sotto in descrizione. Questa situazione faceva erodere la liquidazione dei dipendenti a favore dell'azienda, che così riduceva il suo debito nei confronti dei dipendenti. Per concludere, quindi un'azienda gestita in modo accorto sicuramente tenderà a privilegiare l'opzione che porta il dipendente a scegliere una gestione privata. Così facendo non si deve più occupare degli interessi passivi e può quindi pianificare meglio la gestione finanziaria dell'attività. Da punto di vista del dipendente, una gestione privata è sempre preferibile rispetto a lasciare il TFR in azienda, perché così può personalizzare la gestione del TFR in base alle proprie specifiche esigenze e alle sue condizioni di vita, ad esempio l'età, il numero di figli, se è coniugato o meno, eccetera. Bene, adesso dovresti avere un'idea più chiara sulle possibilità offerte della legge riguardo il lasciare il TFR in azienda o meno. Per questo video è tutto. Ti aspetto nei prossimi video dove tratterò altri aspetti lasciati in sospeso in questo video. Per non perdere nessun video ti consiglio di iscriverti al canale così ricevere le notifiche di pubblicazione. Inoltre clicca sul link giu' in descrizione per accedere ai video gratuiti sugli investimenti.